Assessore, il Comune di Montesimano prosegue la sua lotta contro i rifiuti e oggi lanciate una campagna contro le cattive abitudini. Sì, perché purtroppo ci scontriamo quotidianamente a dover affrontare e cercare di risolvere e porre rimedio alle cattive abitudini. Non dico solo dei nostri concittadini, perché spesso sono anche ditte o persone che vengono dai comuni limitrofi che trovano dei luoghi un po' appartati. A volte invece anche su strade principali e decidono di abbandonare i propri rifiuti in maniera indiscriminata, abbandonando copertoni, mobili, Ethernet e quant'altro. Noi abbiamo messo in campo diversi strumenti come dei soliti tabelloni 6x3 di affissione e poi la novità sono i mezzi dedicati al servizio di igiene urbana che vengono brandizzati con questo messaggio per avere una maggiore visibilità. I nostri mezzi girano su tutto il territorio comunale e ci auguriamo quindi che questo messaggio arrivi in maniera capillare a tutte le famiglie di Montesilvano. Malgrado ci sia un numero verde dedicato che permette la prenotazione del ritiro degli ingombranti e noi entro due o tre giorni dalla chiamata passiamo a ritirare a domicilio in maniera gratuita questi ingombranti, noi puntualmente vediamo socialmente in alcuni punti ben localizzati che intorno ai cassonetti stradali vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Questa campagna pubblicitaria segue le altre iniziative poste in campo da questa amministrazione che cominciano con il porta a porta spinto in tutta la zona collinare che adesso si sta allargando la zona del PP1 con la creazione di un'isola ecologica proprio nella zona del PP1, continua con la creazione di un centro di raccolta dove i cittadini potranno andare a conferire tutti i tipi di rifiuti, prosegue con la creazione di un centro del riuso laddove noi daremo la possibilità ai cittadini di scambiarsi sostanzialmente dei beni non più utilizzati ma comunque che possono avere ancora una vita andando ad alleggerire quelli che sono i conferimenti in discarica che i cittadini e i cittadini pagano.